I primi 50 giorni del senatore Michele Fina, gli atti di sindacato ispettivo, i disegni di legge insomma ho reso conto dell'attività svolta finora che inizia oggi ma che sarà fatto mensilmente nell'ottica del progetto l'albero dell'impegno lanciato in campagna elettorale, un portale aggiornato con numero iniziative e cose fatte. Sicuramente uno dei temi più importanti che si sta affrontando è quello del super bonus che va difeso per Fina ma anche quello del disegno di legge del codice della ricostruzione perché servono regole e precise, chiare per ogni emergenza. Un lavoro che ha fatto anche con il commissario Legnini e che prosegue quello portato avanti da Stefania Pezzopane. 50 giorni è un impegno quello di rendere conto mensilmente del lavoro che svolgo in senato e nelle istituzioni per il territorio. Lo farò ogni mese, iniziamo adesso e senza dubbio abbiamo presentato un buon numero di atti sindacato ispettivo, disegni di legge. Direi quello l'iniziativa più importante riguarda una parte il codice della ricostruzione, ho ripreso il lavoro che aveva avviato Stefania Pezzopane, adesso dialogheremo con gli amministratori locali e la battaglia sul super bonus che è una misura che va difesa perché lo Stato deve rispettare le regole che detta e non cambiarle in corso d'opera. Poi per il futuro si può senza dubbio rimodulare ma sono a rischio 40.000 imprese in Italia, molte migliaia anche in Abruzzo, lavoratrici, lavoratori, cittadini che hanno creduto all'impegno sottoscritto dallo Stato e che adesso vedono a rischio seriamente la possibilità di portare a termine i propri lavori e per le imprese di chiudere i bilanci e di sopravvivere. Questo e molte altre cose di cui mi sono occupato. L'albero dell'impegno che è quello che abbiamo presentato in campagna elettorale, cioè uno strumento internet ma anche fisico in cui raccontare sia in numeri sia con la pubblicazione degli atti il lavoro che stiamo svolgendo, oggi lo aggiorniamo con questi nuovi numeri e lo aggiorneremo costantemente nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Tra le sue battaglie anche Brioni, sistema del Fucino, difesa dei tribunali abruzzesi, interrogazione sua 24 e 25. Fine è intervenuto anche sul sondaggio non commissionato da loro, specifica che a suo giudizio boccia l'operato del governatore Marsilio che molti neanche conoscono, ha detto. Il PD si abbia poi alla fase congressuale, serve una costituente, perfina. Va rifondato un nuovo partito e bisogna rientrare in questo partito per la prima volta, chi già c'è e chi vuole entrare ex novo. Abbiamo anche avuto tanta disponibilità, dice, per rifondare il partito in vista delle prossime regionali.